Ciao ragazzi, bentornati in un video in cui parliamo di Roma dopo questa breve, ma intensa e direi anche molto emozionante parentesi sulla questione Icardi sulla questione Icardi che ha portato il buon Fabio Bergomi a fare un video contro di me assolutamente senza senso con delle cose che non hanno senso, ma risponderò con calma più tardi a quel video detto questo volevo parlare un pochettino della Roma perché? Perché secondo me la partita col Porto ci ha dato degli spunti di riflessione interessanti o meglio ci ha confermato un po' un'idea, quella che la Roma gioca meglio in Champions League, ma perché? Ci ho riflettuto, ci stavo pensando, perché è impossibile che i calciatori veramente, ok, va bene nella Coppa Italia ma non prendano seriamente alcune partite di campionato importanti, perché di questo si sta parlando, no? Cioè evidentemente alcuni calciatori hanno un approccio completamente diverso alla competizione perché io l'ho visto i ragazzi di testa concentratissimi, su tutti mi viene a dire Florenzi che ha fatto una partita l'attenzione d'anticipo importantissima, è solo questo ragazzi, cioè è semplicemente una questione di approccio è semplicemente una questione di importanza che i calciatori danno alla competizione sicuramente questo è un elemento determinante senza ombra di dubbio la Roma come impostazione societaria, come impostazione dell'area tecnica e dell'area sportiva secondo me è orientata a dare il massimo in questa competizione ma poi questo non è un discorso semplicemente da Roma, ricordate il Milan di Coppa? si parlava del Milan di Ancelotti che era una squadra da Coppa, una squadra da Champions League e anche in quel caso ragazzi si doveva dire ma come mai in campionato arrivi quinto e poi vincere la Champions League sono... quinto ovviamente aveva penalizzazione quell'anno però sono discorsi comunque da... che evidentemente sono stati fatti anche in altre sedi ci sono squadre o società che cercano e puntano un pochettino alla... così alla questione europea chiaramente molti tifosi dicono a me non interessa nulla perché io voglio vincere in campionato voglio vincere la Coppa Italia possibilmente a me se usciamo a giro nel Champions League non interessa nulla questo è un discorso che fanno alcuni tifosi che ci può stare ragazzi però è un discorso che la società secondo me non fa la Roma non è orientata in quella direzione io vi ho detto mille volte è una direzione che a me piace perché a me le partite europee entusiasmano la competizione in Europa secondo me vale veramente due volte rispetto a quella che c'è in Coppa Italia per esempio e vale molto di più rispetto a quella che c'è in campionato sono partite molto belle, emozionanti e affascinanti poi ragazzi sono gusti dal punto di vista del tifoso dal punto di vista della società cioè è innegabile che la società punta di più ad una vetrina europea per molti motivi valorizzazione dei calciatori i premi che ti possono dare anche la soddisfazione professionale che possono avere dei dirigenti ad andare avanti in Champions League piuttosto che arrivare ecco in campionato invece che quarti e secondi cioè la soddisfazione di arrivare magari ad un quarto di Champions League è superiore no? e quindi secondo me la Roma è impostata così ma non solo non solo perché riflettendo sempre sulla questione mi è venuto in mente anche il modo di giocare della Roma no? questo modo aggressivo di giocare con la difesa alta questo modo molto rischioso sapete quando c'è il rischio ci può essere la vincita al jackpot oppure la perdita di tutto mentre sta passando l'arrotino qua prendiamo ferro e cose tutto quanto vi dico che secondo me il fatto che Di Francesco ha questo stile di gioco porta la Roma dei vantaggi cioè poter vincere con chiunque e quando giochi in una competizione a eliminazione diretta come la Champions League avere questa possibilità e questa capacità è sicuramente vantaggio cioè essere una squadra da campionato è completamente diverso dall'essere una squadra da coppa abbiamo visto la Juve domine i campionati ma in coppa ha fatto a volte fatica poi alla fine neanche tanto ma insomma ci sono state squadre che dominavano in campionato l'Inter di Mancini dominava in campionato ma in coppa faceva estremamente fatica quindi la Roma giocava in questo modo aggressivo questo modo rischioso palle in verticale inbucate in centro e poi ci ha dato un'altra cosa cioè in coppa difficilmente tu trovi squadre che se lo giocano per lo 0-0 che stanno basse squadre che giocano magari di ripartenza esclusivamente o squadre che puntano al pareggio trovi squadre come il Porto che sul 2-1 si alza e prova a pareggiarti 2-2 c'è una concezione completamente diversa che facilita chiaramente il gioco di Di Francesco e che ci esalta perché alla fine è un dato di fatto che la Roma nella Coppa dei Campioni si è esaltata in due anni anche questa vittoria col Porto che io ho preso chiaramente con un'amarezza perché sto pensando già al ritorno che ha le difficoltà che la Roma potrà avere ma è comunque una vittoria prestigiosa noi col Porto c'eravamo insomma quel dramma che avevamo messo 2-3-0 ce lo ricordiamo tutti con De Rossi che falcio a quello Spruzzini ha messo un po' al miele una partita surreale ma insomma la Roma in Coppa ha fatto spesso figuracce e secondo me ragazzi questo modo di giocare di Francesco può portare le frutti io spero ovviamente che la Roma possa andare avanti questo turno abbiamo vinto il primo round c'è il secondo round molto difficile di andare a giocare là come vi ho detto sapete io la penso che siamo più o meno 50-50 di percentuali di passaggio non sarà per niente facile a Roma dovrà fare un'ottima partita come ha fatto in casa speriamo di recuperare i recarciatori questo sì speriamo di recuperare Garzorp sarebbe importante speriamo di recuperare non so Perotti Under tutte alternative importantissime quindi questo era quello che vi volevo dire ragazzi un po' le riflessioni fatte a mente fredda su questa partita di Coppa la Roma mi sembra una squadra da Coppa purtroppo non da Coppa Italia e secondo me anzi riflettendo anche un pochettino sulla sconfitta in Coppa Italia sicuramente società calciatori allenatori hanno sottovalutato quella partita completamente completamente perché la Fiorentina ecco ha giocato quella partita non essendo andata in ritorno in un modo veramente diverso rispetto a come si giocano le partite in Coppa dei Campioni e ti ha distrutto ti ha distrutto semplicemente con il contropiede con la Roma che già ha interpretato la partita malamente una partita che andava a interpretare in maniera diversa l'ha interpretata male chiaramente i calciatori i calciatori ragazzi volentò non entra la Coppa Italia non gliene frega niente cioè ci possiamo torturare possiamo dice questo questo quest'altro però in questo momento i calciatori della Roma e ma io dico tutta l'area sportiva della Roma della Coppa Italia non interessa assolutamente nulla che sia una cosa positiva o meno cioè chiaramente la Roma dovrebbe puntare a tutte le competizioni anche perché ha una rosa per poterlo fare ampia non ci siamo riusciti per un altro anno è sicuramente un punto da migliorare anche perché peggiorare il 7-1 è veramente difficile ma insomma queste sono le mie considerazioni fatemi sapere voi ragazzi che cosa ne pensate forse più tardi o domani riuscirò a fare il video risposto a Fabio Bergomi perché ha detto delle cose senza senso anche abbastanza irrispettose e poi anche sulla questione del bond Juve di Sturaro il bond Juve Mandragora Udero tutto quel discorso lì è un video un po' che va preparato stavo ricercando delle notizie ieri lo devo girare con tranquillità vediamo se stasera riesco a girarlo se no domani o comunque sia appena posto ragazzi ciao Tattico e ciao a tutti quanti grazie a tutti